buongiorno a tutti allora seconda pizza di serata una ciorfo e praticamente c'è dentro mozzarella fontina spinaci pomodoro l'ho fatta fare leggerina leggerina il problema è che probabilmente hanno dovuto picchiare braccio di fermo per farsi dare gli spinaci perché ci hanno messo mezz'ora a portarvela probabilmente non avevano segnato o non l'hanno presa non è arrivata cose che capitano quindi siamo in un mega ritardo però avvisato che arriveremo alle 9 e un quarto anziché arrivare alle otto e mezza o 9 e un quarto detto questo ragazzoli guardate gli spinaci di braccio di ferro la fontina che si è sciolta e quindi adesso bella pappo e naturalmente ci vediamo alla prossima come sempre questo video lo vedrete domenica sera in orario di cena quindi 19 30 20 più ciao